A Rezza Crutone chiama la tredicesima giornata di andata ponendo i rosso-blu in terza posizione, a ridosso di Ancona e Salernitana costringendo il Perugia ad occupare la quarta posizione. Molto probabilmente saranno queste le quattro società che più accreditate delle altre se la sbrigheranno tra di loro per il salto immediato in Serie B, anche se per il momento le più vicine inseguitrici del quartetto di testa, vale a dire Gallipoli e Taranto, potrebbero recitare insieme all'Arezzo il ruolo delle outsiders. Ecco cosa ne pensa Indiani delle attuali posizioni di classifica. Fino ad adesso, dopo 12 giornate, che è già un tempo direi abbastanza sufficiente, dice questo. Indubbiamente le prime quattro sono rispetto alle altre, rispetto anche alla quinta mi sembra ci sia un notevole distacco, però c'è sempre il discorso di mercato a gennaio e almeno fino al mercato a gennaio è in dubbio e 12 giornate, sono tante, hanno dato una risposta inequivoca mi sembra, però quel mercato a gennaio può cambiare. L'Arezzo rappresenta per il Crotone una delle trasferte più pericolose. Con un organico decisamente di buon livello non è assolutamente da essere sottovalutata per la sua posizione di classifica e né da essere considerata alla frutta, nonostante il cambio della guida tecnica non abbia apportato immediati benefici. Indieni pensa che se come ritiene l'Arezzo tenterà di giocarsi la partita per vincerla per i suoi ragazzi sarà meno difficile del previsto. Ma è sottovalutare, sottovalutare non è da sottovalutare nessuno, figuriamoci l'Arezzo che ha una rosa e all'inizio dell'anno per me era una delle principali favorite, praticamente sono rimasti tutti quelli della B, più o meno evidentemente ci sono stati problemi, anche lì cambio allenatore, non sottovalutiamo niente, indubbiamente la partita più che difficile. L'unico aspetto, credo positivo per noi, è che non mi aspetto un Arezzo e non voglia fare la partita. Speriamo che la vogliano fare anche loro, allora se la vogliano fare anche loro per noi è sempre molto molto ma molto meglio. Possiamo considerare l'Arezzo di una spanna o di qualcosina in più rispetto alle altre? Senza dubbio, l'ho detto prima, l'Arezzo è un organico da primi posti, indubbiamente, per quello che spero e credo che tentino almeno di fare la partita e non si rifugino le squadre elencate in precedenza a aspettare noi e poi ripartire. Sono tantissimi gli allenatori essonerati nel girone B della C1 e se consideriamo che siamo appena alla tredicesima giornata la lista è destinata ad allungarsi. E anche se indiani è stato fermato dalla società pitagorina sino al 2010, ecco spontaneamente cosa ha dichiarato. che li hanno mandati via, non l'hanno abbandonato. Nel nostro girone mi sembra più di metà, siamo già a 9 su 9, insomma una roba incredibile ma spero di non essere fra quelli. No, non ce l'auguriamo perché sarebbe controproducente. Anzi, nel calcio a volte può essere anche opportuno, è chiaro è un aspetto in cui magari le società ricorrono un po' troppo spesso, però anche andando contro magari i miei interessi però a volte è anche necessario. Sì, potrebbe anche essere una tesi valida anche se ritengo che ci sia necessità di dare all'allenatore il tempo giusto per far crescere la squadra. Sì, a volte è anche un errore societario di iniziale, di scelta. Può succedere anche così, non è solo il tempo ma può essere anche un errore iniziale di scelta. Comunque senza dubbio se non gli diamo nemmeno il tempo è chiaro che è facile succedere queste cose. Chiudiamo dicendo che Arezzo Crutone è stata affidata a Manna Vincenzo di Sernia, coadiuvato dal primo assistente Maurizio Nocera di Albano Laziale e dal secondo Giorgio Fortunati di Roma 2. E poi con un'ultima domanda a Mister Indiani. Gli abbiamo chiesto se è rimasto soddisfatto della prova di Nello Russo domenica scorsa contro il Pescara. Senza dubbio, senza dubbio, non credevo nemmeno che arrivasse a metà del secondo tempo però era chiaro che non poteva andare più avanti. Come ho detto a colleghi c'è un po' di rimpianto, se tra virgolette, naturalmente rimpianto perché poteva essere la partita giusta di finirla perlomeno con due attaccanti centrali. Grazie.